Tante anche le aziende impegnate ad aiutare. C'è chi le chiama solidali, chi utilizza il termine civil servant. Continua l'impegno delle aziende anche nel ritorno alla normalità, prima data per scontata. Quando c'è mancata la possibilità di vivere i nostri riti quotidiani, le nostre abitudini, ci siamo resi conto di quanto fossero importanti. Ripartire da sé significa prendersi cura anche di questi riti e di una quotidianità che rischiava in effetti di essere dimenticata. Ora riparti da te è lo slogan che ha scelto Procter & Gamble per la fase 2 della solidarietà. Prima 2 milioni di euro per le organizzazioni direttamente sul campo e ora l'azienda vuole rendere più accessibili i beni che segnano la quotidianità degli italiani. Fino al 23 luglio ci sarà un rimborso del 50% del valore dei prodotti acquistati per la cura personale e della casa.